Con qualche ritardo arrivano a Teramo direttamente dal Corr gli attesi rimborsi per l'autonoma sistemazione di mille famiglie terramane. A fine maggio il Comune pagherà i mesi di febbraio e marzo ai nuclei familiari fuori casa dal 2016. Diciamo che si tratta di una notizia buona a metà, poiché gli sfollati si aspettavano che fosse elargito il contributo CAS almeno per i tre mesi trascorsi. La burocrazia è il limite di questi meccanismi, spiega l'assessore comunale al sociale Simone Mistichelli, che però assicura la massima celerità da parte del Comune che impiegherà solo 48 ore per elagire le somme quando queste verranno versate dal Corr. Arrivano finalmente i soldi del CAS? Sì, sono transitate nelle casse del Comune da parte del Corr, 1 milione e 100 mila euro, mercoledì. Tecnicamente 1 milione e 100 mila euro riusciremo a pagare solo un mese, poi abbiamo comunque dei residui che ci portiamo dietro dal 2016 per quanto riguarda il CAS e quindi riusciremo a elargire due mensilità, nello specifico febbraio e marzo. Si riuscirà poi ad avere una fluidità nei pagamenti? Allora, questa ovviamente è una domanda che ricorre sempre e che mi fanno in generale un po' tutti. Noi ovviamente possiamo parlare di tempi tecnici e burocratici soltanto dopo che le somme sono transitate all'interno delle casse del Comune. Da lì poi parte tutto l'iter in capo a noi e posso dire che nelle ultime volte che abbiamo pagato il contributo per fare i mandati per mille nuclei familiari abbiamo impiegato 48 ore. Ecco, ma da che cosa dipende spesso questo ritardo? Beh, il ritardo comunque dipende dal fatto che questo è un contributo per il disagio e quindi non è tecnicamente una somma e deve essere agita per forza mensilmente. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che comunque le somme per arrivare nelle casse del COR e poi farle transitare nei Comuni del Cratere fanno un lungo percorso. Partono l'Unione Europea, poi il Dipartimento Centrale della Protezione Civile, dopodiché dalla Protezione Civile passano al COR e dopodiché il COR le passa nelle casse dei Comuni del Cratere che sono 138. Quindi diciamo da un punto di vista burocratico e amministrativo mi rendo anche conto che i tempi sono rilatati perché c'è un lungo giro da fare e i Comuni non sono pochi. La forchetta dei contributi per l'autonoma sistemazione distribuiti alle famiglie terramane fuori casa va da un minimo di 400 euro ad un massimo di 2.500 euro quando ci sono anziani o disabili. Dopo tre anni dal sisma del 2016, gli sfollati del Comune di Teramo sono ancora 3.000.